Gentili telespettatori, buona giornata. E così Landini cede e ci ripensa, ritorna nell'alveo della legalità, della legittimità, perché voleva fare uno sciopero di 24 ore ma non poteva, perché le leggi italiane lo vietano e infatti il ministro Salvini dei Trasporti ha fatto la precettazione e ha evitato che questo sciopero si muovesse nell'illegalità e nell'illegittimità. E così Landini dice solo 4 ore per evitare le sanzioni, perché le sanzioni sono molto alte e vanno da 5.000 a oltre 50.000 euro, non solo per i sindacati ma anche per i lavoratori che non rispettano la legge e la precettazione. Dobbiamo fare i conti con questa cosa che è intervenuta. Quindi Landini utilizza un linguaggio anche sempliciotto, con questa cosa che è intervenuta. E' così Maurizio lo dice in conferenza stampa in merito alla precettazione decisa da Salvini sullo sciopero del 17 novembre che loro dicevano essere uno sciopero generale, invece non lo era, quindi anche un nome falso allo sciopero. E aggiunge Landini se avessimo confermato le modalità degli scioperi le sanzioni sarebbero state a carico solo dei sindacati. Con la precettazione si mettono a rischio lavoratrici e lavoratori che volevano partecipare allo sciopero con sanzioni non solo economiche ma anche penali. Per tutelare i lavoratori lo sciopero dei trasporti sarà dalle 9 alle 13. Dalle 9 alle 13 come la legge dice, come Salvini poi ha deciso, solo che Maurizio Landini non riesce ad assimilare il fatto che Matteo Salvini comandi sulle cose che lui voleva fare. E lui è il ministro e tu sei il sindacalista. Quindi lo sciopero sarà dalle 9 alle 13, lo aveva già detto il governo. Lui si allinea a quella che è la legge italiana. Eh sì, naturalmente Landini sa che se c'è una precettazione dopo le 13 nessuno si sarebbe messo a scioperare. Nessuno si prende da 5 a 50 mila euro di multa per farsi vedere dal suo sindacato che lui non guida l'autobus alla metropolitana. Quindi lo sciopero è stato poi ridotto anche da Landini dalle 9 alle 13 perché sapeva perfettamente che oltre le 13 i lavoratori non avrebbero poi più scioperato e sarebbero andati al lavoro. e quindi si sarebbe poi scritto sui giornali il sciopero dopo le 13 è inesistente, ha fallito i sindacati, non c'è nessun lavoratore che sciopera dopo le 13. È certo che un lavoratore decida magari di prendersi 30 mila euro di multa per non guidare l'autobus perché il sindacato ha detto che bisogna scioperare contro la manovra perché Landini vuole entrare in politica insomma mi sembra un po' troppo che uno si prenda una multa del genere per fare gli interessi di Maurizio Landini insomma a tutto c'è un limite quindi lui desiste per forza di cose perché con la precettazione poi nessuno andrebbe avanti a scioperare oltre quell'orario. Interviene anche il segretario della UIL Pierpaolo Bombardieri che dice se il presidente del consiglio Giorgia Meloni non interviene questo fa pensare che sia d'accordo con questa campagna, con questa modalità aggressiva di attaccare i sindacati. La Meloni l'ha detto chiaramente, ho parlato con Salvini e abbiamo fatto tutto in accordo, era ovvio. Come si può pensare che la Meloni non sapesse nulla e ha fatto tutto Salvini? Ma dai, su, ovviamente. Modalità aggressiva di attaccare i sindacati? E no caro Pierpaolo, bisogna rispettare le leggi, so che a sinistra le leggi non piacciono molto il rispetto delle leggi, però visto che non siamo in una dittatura di sinistra, per fortuna, non c'è il fascismo di sinistra, per fortuna, dovete rispettare le leggi, le leggi della Repubblica, le normativi, i regolamenti. Gli unici che hanno attentato alla democrazia? Siete voi che volevate fare una manifestazione illegittima, inutile criticare il governo aggressivo contro i sindacati, no. La legge parla chiaro, caro il mio, bombardieri, ecco. E poi dice siamo nel piano di una schizofrenia totale che è bene che tutti vedano. abbiamo visto tutti cosa sono realmente i sindacati, con questo fatto del tentativo di fare una manifestazione illegittima, gli italiani lo hanno visto molto bene. Mentre lui dice tutti devono vedere questo governo, questo governo ne è uscito a testa alta facendo rispettare le leggi, le leggi bombardieri, leggi, leggi italiane, leggi italiane. E poi aggiunge buona parte delle ragioni dello sciopero riguardo argomenti come le pensioni o gli extra profitti. Ma chi se ne frega, protesta per quello che vuoi, protesta anche perché lo yogurt è finito alla mensa scolastica. Protesta, però protesta con le regole e le leggi dello Stato. Regole, bombardieri, leggi da rispettare, democrazia si chiama. Ecco. Poi che tu dici ma io parlo delle pensioni, beh allora puoi fare quello che vuoi se parli delle pensioni. Vai a fare una rapina in banca, dici mentre faccio la rapina però parlo delle pensioni. Quindi cosa volete da me? Sto parlando delle pensioni? Ma dai su, ma che ragionamenti sono? Beh ragionamenti dai. Non possiamo neanche definirli dei ragionamenti, sono delle frasi con delle cose, chiamiamole proprio così, delle cose buttate lì a cavolo. E aggiunge gli stessi, Meloni e Salvini, che parlavano di queste cose, sono gli stessi che hanno precettato lo sciopero e negato un diritto ai lavoratori. Eh? Non è stato negato nessun diritto ai lavoratori, lo sciopero c'è, dalle 9 alle 13. Non hanno precettato lo sciopero, hanno precettato le persone dicendo se non vai a fare il tuo lavoro dopo le quattro ore di sciopero avrai un serio problema. Quindi negato un diritto ai lavoratori non è vero, lo sciopero c'è, gli scioperi sono sacrosanti, quindi dalle 9 alle 13 venerdì ci sarà lo sciopero, non c'è stato nessun diritto negato ai lavoratori, anzi si è aiutato i lavoratori a poter raggiungere il loro posto di lavoro, perché se c'è uno sciopero e non possono andare al lavoro, gli viene tolta una giornata di ferie, perché gli danno poi una giornata di ferie, o gli tolgono un giorno di retribuzione. Ecco, quindi chi ha difeso i lavoratori è il governo. Arrivederci a tutti e grazie.